se non c'è un po' di mangiare, ma non c'è un po' di mangiare ma che cazzo di... mangiare a me e non mangiare a te è proprio tina che ti hai mangiato tutto il pesce? si, ancora no io vi ho piatto un po' di pietro e che l'ho pensato però mi hai detto scusa, ma non so se stai riprendendo no no no, ti puoi rifiare ma come era tu dicevo che io pesce un tuo stomaco? 1.000 e 20 1.000 e 20 di pesce ma non hai messo due eppure ti hai messo due 600 euro eh che fortissimo ma non hai messo il tuo stomaco? ora io provo a dare 6 kg di calamari non hai messo i pesce ma non hai messo i pesce ma non hai messo i pesce ma non hai messo i pesce sì, io ho capito ma non hai messo i pesce tutti i giorni non sei vita che sono comagli ma non hai messo i pesce a me mi disgusto a me non è poco mi piacciono pesce a spada asti non posso esagerare con la pappatoria non ci frega nessuno number one casa generale periodo di feste giustamente eh lo devo ammettere qualche caletto l'ho messo una dieta sospesa fino al primo gennaio poi riprendiamo è giusto giusto che sia che sia così una partita non semplice io già mi è arrivato no 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 non basta non possiamo tre vede cose può fare c'è la supercoppa poi la supercoppa c'è la coppa Italia eh sì allora cosa si chiama le tue competizioni? bipete? bipete 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 no c'è la doppelette doppelette io mo' condannerebbe doppelette perché non l'abbiamo mai avuto beh condannerei pure le 1 visto che questo doppelette è proprio sicuro come sono andate le cose meglio se stiamo zitti e pronostichiamo Genoa Inter giambo vai sbilanci allora una partita dura eh il Genoa è fuori in casa è forte Gerardino è un bravo allenatore noi non già abbiamo il cavallo di battaglia Lautaro quindi io metterei un 0-1 oh di corto muso spettinata spettinata ah duramma si per me si io dico 1 a 2 ma e non è vincere 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 ma sentiamo il generale cosa ci dice ma visti che voi si cambiate tutti così io dico 0-2 finito finito no no proprio perché 0-1 sarebbe risultato un risultato più giusto forse forse vediamo quello che dice il campo è il giudice supremo detto ciò forza Inter sempre dai ah questo condomene ma che bangarotti che sono cazzata di dire ma che non fa bene che non fa bene diciamo che a me c'è la legge che ti non è a posto con i conti avevano una finalizzazione e ti ha l'Inter perché non ti danno ah questo con questo non posso commentare la risposta come? un magistrato proprio ma che ti ha un magistrato dai i conti l'Inter già si sapono da tanto tempo che ci sono 800 milioni di debiti di cui 300 ha una parata ne manca mezzo miliardo c'è sotto mezzo miliardo c'è sotto mezzo miliardo ehi si senti i Giambini loro vogliono chiedere possono vedere che vogliono ho un debito che tende sono quelle che hanno fatto video quindi 100 milioni 80-90-100 milioni no qui sono quasi un miliardo 800 milioni ma da te ho OCTRI OCTRI come si chiama quella cosa? ma che direi ho un debito è come se ti hanno fatto una prestità e non è tornata ma quindi i soldi ma già gli hanno passato e hai capito che hanno fatto 408 milioni? no 300 milioni hanno detto che hanno detto non avevano un problema è che non fanno i soldi dalla Cina e allora se non fanno i soldi dalla Cina c'è questa non può fare presente nella squadrica ma hai capito non può fare presente nella squadrica le leggi cangiano eh no no cangiano la volta con fuoto si ma c'è sempre stato a tu dai 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 bravo che bella azione ma hai fatto a bollare? non ho conosciuto eh? ma ne c'è ma... che avevamo fatto a trentale Francesco non c'è l'interno che avevo fatto a dolore? non c'è l'interno ma non c'è l'interno ma non c'è l'interno ma non c'è l'interno è buono! è buono! non è buono! sono proprio meretato! sono proprio meretato! io ho fatto un po' quello! io ho fatto un po' quello! è buono! la propria rete ha avuto c'era il mio 14 su un po' quello cosa può fare con un po' quello? è questo! ha visto? no no! ha spinto! si ha picchiato le mani! no! ha spinto! la rete ha fatto un gioco non c'è no! ha spinto! ah! se c'è un fallo non lo sè ma lo facciamo con nulla i pigliano uno di milioni d'euro che sarà in Genova ma con i pigliano è davvero! ma con i pigliano uno di milioni d'euro pensate! 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 mi sono andato! 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 Bologna apparecce, Bologna, qui sai quelli Bologna, qui sai quelli Dopplette, dopplette, ma qua c'è da portare a casa i punti Dopplette, dopplette, tranquillo che domani io ho aperto che guadagniamo pure uno punto Regista, regista Che regista è regista? Non credo io, giochi in gas Non credo io, giochi in gas